Siete in linea con la sala operativa del comando Vigili del Fuoco di Napoli. Un operatore sta per accogliere la vostra richiesta. Vigili, buongiorno. Buongiorno. Senta, io abito a Via Nello Falcone. Sì. Notavo che secondo me causa maltempo. C'è un albero che praticamente si è inclinato un pochino su se stesso. E io penso che se veste a darci uno sguardo... Ma questa è in strada o in proprietà privata? È in strada o in qualche proprietà privata? Nei giardinetti pubblici. Ah, nei giardinetti pubblici? Sì. Va bene, ok. Va bene, intervenite? Sì, sì. Va bene. Se volete vi potete rivolgere. Io sono... Ci sono qua e vi spiego dov'è, qual è la situazione. Lei signor? Telefono, mi scusi? Ok. Grazie. Averci. Pronto? Pronto. È la sala operativa del comando Vigili del Fuoco di Napoli. Buongiorno. Ciao, dimmi. Senta, ci stanno contattando. Vieni a Via Nello Falcone. Questi sono i giardinetti pubblici. Mi ascolti? Sì. Dicono che ci sta un albero in vitico. Ci sta piegando. E voi non intervenite con lei? Quello è un giardinetto, scusami. E invece il giardinetto, l'albero lo manteniamo noi? No, quello dice non è che sta cadendo. Lo vede piegato. E vabbè, lo vede piegato. Va bene. Giardinetti di via? Una cosa è piegate, è una cosa che sta cadendo. Allora, via? Via Nello Falcone. Ci ha contattato il signor S***o e i giardinetti pubblici sarebbero. C'è un recapito? Sì. Lui lo ha detto, lo vede piegato. E lo vede piegato. Va bene, ciao, ciao. 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 Ciao.